Nel nostro ecosistema aggreghiamo le soluzioni cloud dei brand più rinomati per darti modo di fare e ottenere sempre di più. In passato usavi un software installato sul tuo computer o server. Oggi puoi accedere a soluzioni cloud da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento. Gran parte di noi già usa queste soluzioni nella vita quotidiana senza nemmeno rendersene conto. Il cloud sta ridefinendo la comunicazione verso il consumatore e sta influenzando anche la comunicazione aziendale. Di conseguenza la vita personale e quella professionale iniziano a fondersi. Il cloud come opportunità per i tuoi clienti è in costante crescita. Studi recenti mostrano come il cloud cresca sei volte più rapidamente del mercato IT generale. Si prevede che il mercato cloud crescerà di più del doppio nei prossimi anni. Allora, perché non sfruttare questa opportunità? Per iniziare senza essere travolti dalla complessità delle soluzioni e dei servizi, Ingram Micro ti fornisce un facile accesso al suo ricco ecosystem of cloud, offrendoti tutti gli strumenti per far crescere la tua attività. Parti per un viaggio tra le nuvole. Unisciti a noi. Ingram Micro brings it all together. Realize the promise of technology. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.